Il tuo stile? Sono gli accessori a fare la differenza. E allora che aspetti a visitare l'unico punto 3 store di Avola? Telefoni cellulari, accessori, tablet, chiavette e internet, tutto esclusivamente 3. Solo 3 ti garantisce le ultime novità. Scopri nuovi smartphone super tecnologici, dal design accattivante e con internet velocissimo. Potrai scegliere fra gli abbonamenti NoTax con Galaxy S3 a partire da 20 euro. Tanti minuti per parlare con chi vuoi, sms e 2 gigabyte di internet. E con soli 5 euro in più al mese avrai anche internet a casa fino a 3 gigabyte con Webcube incluso. L'offerta del momento si chiama Scegli 3 ricaricabile. Passa a 3 e con una ricarica mensile automatica da 10 euro avrai uno smartphone a 0 euro, minuti e messaggi verso tutti e internet. 3 store, unico punto vendita, ad Avola, in corso Vittorio Emanuele 233, telefono 0931 57 87 20. 3 store, ideato per te. 3 store, ideato per te. 3 store, ideato per te. 4 store, ideato per te.